Il 31esimo, il 31esimo, dobbiamo chiedere un napoletano. Se volete fare una parte nel film, una parte nel film? Perchè no, questo era una soffile, non c'era la civiltà, poi ho visto questa cosa qui, abbiamo ritrovato degli appunti di Giopponti, ma erano soltanto appunti di vera descrizione, sulla base di quello abbiamo fatto questa cosa qui, è mettato la location, più richiesta di me. Io sono stato anche al 32esimo, perché esiste un copalchino lì, mi hanno messo una specie di camerino, una sala, non si vede la comadonina. Si vede il Duomo, si vede tutto questo. Casa mia, non dico dov'è, ma... No, no, molto bella, le ritrate perfette, soprattutto sembra di stare proprio nell'aria, a Milano, nel helicoptero. Ti dico solo questo. Bellissimo, però devo perdere il più o meno possibile.